spuntare su rettiline opposto per poi entrare nello stadio di Borgo Vassugana dai Daniele vediamo cosa succederà vediamo cosa succede attenzione attenzione stanno arrivando le rettiline opposto si vede la moto si vede la moto vediamo adesso eh si studiano si studiano fa in tempo ancora arrivare dentro il gruppo sono rientrati no non è rientrato nessuno sette uomini al comando attenzione c'è in testa il corridore dell'alzata e Brianza in testa vuole prendere in testa la curva il corridore dell'alzata e Brianza vuole prendere in testa la curva ma entra il corridore della Mosole bravissimo prende venti metri di vantaggio in curva ha impostato la curva benissimo il corridore della Mosole si gira un secondo ma rientra un corridore da dietro mi sembra della Fausto Coppi aspetta da uscire riparte il corridore della Mosole da dietro arriva un corridore vediamo a sinistra ma non riesce attenzione il corridore della Mosole sempre in testa testa a testa il corridore della Fausto Coppi attenzione il corridore della Fausto Coppi e vince il corridore della Fausto Coppi vince la quarta batteria vince la quarta batteria il corridore della Fausto Coppi vince il corridore della Fausto Coppi Bazzani vediamo Bazzani il corridore è benissimo a volata terzo classificato Nicolas allora come è andata raccontami un po' come è andata la corsa la gara è andata molto bene sono stato sin dall'inizio un po' sfortunato siccome sono partito tra gli ultimi però nei vari giri sono riuscito comunque a mettermi davanti ci sono stati tanti scatti ci sono stati tanti scatti ovviamente sia dal primo classificato anche dal secondo è stata una fortuna praticamente arrivare terzo perché non me lo sarei mai aspettato quest'anno quanti ne hai vinte? zero piazzamenti? piazzamenti sì tanti sempre nel non hai mai vinto no no arriverà magari l'anno prossimo arriverà l'anno prossimo chi dedichi il terzo posto? allora la dedico a mia mamma siccome oggi è il suo compleanno e voglio ringraziare tutti i miei compagni allenatori DS che mi sono sempre stati a fianco e mi hanno sempre mi hanno sempre detto che non dovrei mai mollare e infatti questo è stato il risultato ok perfetto adesso il secondo classificato della Mosole presentati raccontami un po' come è andata e se sei soddisfatto o no sono Nicolò mi è andata abbastanza bene potevo far di meglio sono soddisfatto ho visto che hai attaccato anche parecchio ho provato ad attaccare però mi sono bruciato le gambe a un certo punto ci hai dati via tu e quello che ha vinto e dopo dietro sono rientrati comunque perché forse eravati i due favoriti adesso sì esatto perché per quanto tirassimo a un certo punto è calata la velocità secondo posto a chi lo dedichi lo dedico ai miei genitori al mio fratello che è venuto giù dall'Austria e al mio allenatore perfetto ti ringrazio e in bocca al lupo adesso abbiamo il vincitore hai fatto una grandissima volata avete attaccato hai controllato la corsa raccontami un po' le tue sensazioni pensavi di vincere oppure no? pensavo pensavo di arrivare tra i primi tre ma non di vincere perché anche il Niccolò quello del Mosul era molto forte da quando ho visto che da quando ho toccato mi è venuto subito dietro e da là mi ha detto che dovevo andare via io e lui ma non pensavo di arrivare tra i primi tre il tuo idolo ciclistico? Mark Cavandy come mai questa scelta? perché mi ha ispirato molto anche per le sue tante vittorie e quindi vorrei diventare come lui dedica alla mia squadra e ai miei genitori perfetto grazie mille grazie a tutti